Sì, senza? Adesso ti rimando per la mia collega. Sì, senza? Rosi! Buonasera, scusatevi, ho interrotto. Come faceva la regina? Se arriva qualcos'altro dopo, sì, ma ancora adesso non c'è più niente. Non c'è più niente. Vogliono un po' di bigliettini là in fondo. Vogliono un po' di bigliettini quelli là. Faccio un giro via, secondo me. Vado così chiudo. Chiudi conti, chiudi conti. Quanti messaggi e orgogli. Fuori, scrivete qui il mio portale. Allora, ho tre messaggi.